Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Allora, otteneremo sempre queste due bustine e te li già le conoscete quindi spacchettiamo subito Allora Io qua penso che troveremmo il preso tavolo perché ho trastato il mio come trovare le pinne e un colore Quindi guardiamo qui Ragazzi, questo qui è bellissimo A parte che è la stessa identica posa di quelli di Dinosaurato della prima serie Questo qua è colorato Ha sempre queste cose metallizzate E poi guardate qua, guardate quanto è bello È stupendo E' più bello Però è un po' troppo costo Non è che vi faccio lungo Eccolo immaginavo Guardatelo Con il suo colore Giù con il colore lungo l'abbiamo trovato Quanto è il nostro cartonato Che io voglio Vabbè Voglio Accartocciare Perché è un cartonato Si chiama accartocciare Però Il video è un po' troppo costo Aspettate il momento Ragazzi Sono andata a prendere Quelli che avevo trovato La scorsa volta Comunque Guardate Guardate qua come sono belli Questi due Guardate qua come sono belli Questi qua pure Se mi sembrano due capri Asciamoli così Guardate come sembrano belli Che dire Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Aspettate Perché voglio mettere questo qui A parte che questo qua Come ho detto Lo scorso video Siene I piedi pure storti Però si siede comunque In piedi Allora Vedo In modo Che faccio vedere Tutte e quattro Ora Questo Lo metto Qua Questo qua Questo qua E se Tutte e quattro Ragazzi Iscrivetevi al canale Attivate la campanella E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao